Ciao, sono Federica. Dopo aver conseguito la laurea triennale in matematica all'Insubria, ho continuato con la magistrale. L'università mi ha dato l'opportunità di partecipare a un tirocino didattico e ho svolto quindi delle attività di tutoraggio di matematica ai ragazzi del primo anno. Questo mi ha fatto capire quanto mi piacerebbe insegnare, così ho conseguito, sempre grazie all'università, i 24 CFU necessari per l'insegnamento. Questi 24 crediti acquisiti mi hanno dato inoltre la possibilità di prolungare di sei mesi il mio anno accademico, così da potermi laureare oltre termini previsti senza pagare nessuna tassa aggiuntiva.